Mi aspetta questo signore e mi fa... PAUCI! Io ormai ero entrato nella parte in più, mi pagavano, ho detto che cazzo mi frega, piacere, PAUCI. Prima di parlarmi ha cominciato... Ho detto, sarà un rapper del posto. Mi fa, ascoltami a me. Per forza, non vedo nessun altro, siamo in due. Prima di andare, dove dobbiamo andare ora? Ti porto a mangiare, un risotto ai frutti di mare. Come voi di su, giù, non lo avete mai mangiare. Non male che ho l'iPhone, ho scritto mangiato, mi ha tradotto la voce. Entriamo in un ristorante e vede il cameriere di lontananza, FRANGO! Hai visto che ti ho portato? Niente di meno che ha PAUCI! Il cameriere corre tra i tavoli, prima di darmi la mano, se la passa sulla fronte sudata, fa... PIACERE FRANGO! Io lo voglio e faccio piacere, PAUCI!